Leo Tanga, che cosa ti porti di positivo dopo questa giornata? C'è stata la sconfitta che si poteva mettere in preventivo contro il Campobasso 4-0, ma Campomarino che cosa si porta dietro da questa giornata contro il Campobasso? La prestazione dei ragazzi, finché hanno potuto, perché come dicevo anche un tuo collega, sembra un paradosso che sono tra virgolette contento dopo un 4-0, però la prestazione è stata positiva, gli episodi del primo tempo ci hanno messo subito in salita la partita, però abbiamo reagito, abbiamo creato qualche pallagol e poi in 10 la partita è finita. Potevate pareggiare due volte dopo il gol di Franchi? Sì, abbiamo avuto, ma i ragazzi hanno interpretato la partita così come l'avamo preparato, cerca di rispondere colpo sul colpo, di restare corti, aggressivi e l'abbiamo fatto il primo tempo, però gli episodi, ripeto, prendere il primo gol è stato purtroppo un errore che può capitare giustamente del portiere e poi la pallina attiva che loro erano anche molto organizzati, però ripeto, mi porto a casa una prestazione sapendo che noi abbiamo un percorso diverso, quindi in considerazione dell'avversario naturalmente sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo saputo prima della partita un po' di maretta con i tifosi, società tifosi, che cosa è successo? Hai dovuto anche interloquire con i tifosi stessi che poi prima avevano deciso di disertare la gara, poi sono entrati meglio così? Sì, molto meglio, perché sono il nostro dodicesimo uomo, non mi stancherò mai di dirlo, a noi ci hanno dato sempre il sostegno ed è bello giocare in queste categorie con una cornice come oggi, dove sia i tifosi del campo basso sia i nostri hanno fatto sì che sia una bellissima giornata di sport, al di là anche del tempo, la prestazione dei ragazzi e il campo basso che sinceramente la squadra è una corrazzata per stravincerlo. Cosa è successo? Qualche piccola incomprensione? Sì, diciamo che anche forse un po' di inesperienza da parte della società su alcune situazioni si potevano affrontare diversamente, però ripeto l'importante è che ci hanno dato il loro sostegno e che sono entrati sui loro spalti.